Avevamo un sogno, ce lo hanno tolto con una vigliaccata, siamo addolorati e amareggiati. Con queste parole Angelo Giandomenico e Francesca Re hanno commentato in conferenza stampa la nomina di un commissario cittadino, Alessandro Rubino, per volontà della presidenza provinciale di Fratelli d'Italia e la relativa indicazione, sposata anche dai vertici regionali del partito, di appoggiare alle prossime comunali il candidato Cellamare, in nome di un centrodestra unito. Ma quale centrodestra unito? Hanno commentato Giandomenico e Arre. A Castellaneta non esistono partiti, l'unico circolo attivo è il nostro, è una storiella senza capo né coda. Dopo dieci anni di serrata opposizione, come facevamo ad appoggiare un candidato, espressione dell'amministrazione Gugliotti? Il circolo Pinuccio-Tattarella insomma non si dà per vinto ed ecco spiegata la presenza in conferenza stampa dell'avvocato Cristiano Rizzi. Si tratta di una vicenda disgustosa, ha dichiarato l'avvocato, per questo siamo pronti a farci valere nelle sedi opportune. Hanno falsato la partita prima del suo inizio, adesso è nostro dovere restituire ai castellanetani l'orgoglio di essere castellanetani. Come? Formalizzando un ricorso alla Commissione di Garanzia del Partito, forti del fatto che la competenza di formare una lista elettorale spetterebbe al circolo territoriale e non a decisioni provinciali o regionali. Il circolo Tatarella in sintesi farà riferimento al codice etico di Fratelli d'Italia, ma ovviamente non avrà dalla sua parte il fattore tempo. Per le comunali ormai imminenti verrà costruita perciò una lista civica a sostegno del dottor Simone Giuncato, lunedì pomeriggio la presentazione ufficiale della sua coalizione. Siamo a buon punto, hanno concluso Gian Domenico e Arre. Abbiamo consenso, disponibilità di tutti e attestati di stima da più fronti. Poi una munizione e una promessa. Se qualcuno sta solo sognando di riaprire la discarica a Castellaneta, qui troverà opposizione ferrea. Il simbolo invece tornerà presto qui perché questa è casa sua. Voglio ribadire con forza che la passione che ci ha sempre contraddistendo in questi anni di militanza politica, prima nel Movimento Sociale, poi in Alleanza Nazionale, nel PDL e oggi in Fratelli d'Italia, è la stessa passione che con le nostre idee e i nostri valori porteremo ancora avanti e sosterremo sempre con forza la candidatura del dottor Simone Giuncato. Io non so cosa ha spinto i miei dirigenti provinciali a prendere una decisione del genere. Io so solo che questa decisione ci ha mortificati e siamo davvero molto incazzati. E questa mortificazione che nelle prime ore ci ha fatto barcollare, poi con gli attestati di stima che ci sono arrivati e sono stati tantissimi, ci hanno ridato quell'entusiasmo e quella passione che in queste ultime ore di preparazione delle liste ci sta portando a sostenere sempre con determinazione, con maggiore determinazione, questo progetto che è un progetto nuovo, innovativo e che porterà comunque a essere protagonisti in questa campagna elettorale. Quello che abbiamo ricevuto dal coordinatore provinciale e dal Consiglio regionale è stato un vero e proprio dictat a cui noi non abbiamo inteso sottostare, perché oltre a non esserci stata data comunicazione, neanche una telefonata di questo cambio di rotta di Fratelli d'Italia, non c'è stata data neanche alcuna motivazione politica, visto che quella della presunta unità del centro-destra non è che una storiella, visto anche quello che ha detto, l'ha dichiarato il nostro leader Giorgia Meloni a Milano, in quanto la Meloni ha detto noi vogliamo ridare orgoglio all'Italia con o senza centro-destra unito e noi vogliamo dare a Castellaneta di nuovo l'orgoglio e la dignità che merita con idee, progetti e persone che rispecchiano i nostri stessi valori.